Beh sì, spiazze perché i coppi stasera stanno rosicando come castori, spiazze per i tifosi del Napoli, spiazze per i milanisti, ma Simone è sempre primo saldamente al timone, spiazze per i coppi che gufavano, spiazze per tutto il mondo, ma ho dato un'altra lezione di calzo, De Laurenti sei visto come si zocca? Io e la mia Inter stiamo facendo un grande percorso, e devo dire agli altri che in questo momento probabilmente faccio uno dei calzi migliori, ragazzi Simone è saldamente qui al timone, Forza Inter, iscrivetevi a questo canale, perché se non vi iscrivete vi si piglia male, un saluto dalla napolista Inter! Juventini siete sempre secondi, e ora venerdì trovate contro un Napoli infuocato, e anche arrabbiato, attenzione, ma siamo sempre noi al timone, grande Simone, spiazze! Grazie mille!